ciao ragazzi benvenuti su italia un film collector channel on video mania sono qui a presentarvi due splendide edizioni tra l'altro entrambi francesi per la rubrica import di c'era una volta in america film che a mio avviso è tra i migliori se non il migliore della storia del cinema ovviamente so che la mia affermazione è un'affermazione forte però ci tengo anche a spiegarvi da cosa nasce questa mia affermazione c'era una volta in america appunto un film del 1984 girato da sergio leone diretto da sergio leone con robert de niro james wood e c'è joe pesci e anche una giovanissima jennifer conley il film a mio avviso è tra i migliori perché nel suo repertorio secondo me riprende un po tutti i generi se non tutti la maggior parte dei generi che un film possa diciamo racchiudere tra appunto il dramma è un gangster movie ha dell'umorismo c'è dell'erotismo c'è del sentimentalismo c'è un po di tutto in questo film cavolavoro come dicevo senza tempo tra l'altro diretto appunto da un italiano quindi non possiamo che essere anche di parte e non fa mai male ovviamente robert de niro il mio attore preferito e in questo film è davvero magistrale il film ripercorre la vita praticamente di in particolar modo di due amici anche se diciamo è allargata però la storia diciamo principale fa riferimento ai due amici che sono robert de niro e james wood interpretati ovviamente da robert de niro e james wood ma ragazzi penso che il film non abbia assolutamente bisogno di presentazioni piuttosto andiamo a vedere le due edizioni che come dicevo sono entrambi francesi partendo prima da questa qui questa qui la spostiamo momentaneamente e niente questa qui è una splendida metal box di francese appunto spero che si veda davvero davvero stupenda guardate che bella ci tengo tantissimo tra l'altro queste con la versione non estesa dovrebbe avere il primo diciamo il primo master che non è il migliore mentre è quello che sta nell'altro ci tengo a precisare che come ben sapete nessun master ad oggi rende realmente giustizia a questo film ma ci si accontenta diciamo la scelta sempre di riversare un film così lungo ricordo che dura quattro ore e mezza quasi se non erro su un unico disco non è stata mai una scelta felice ma andiamo a vedere cosa contiene questa edizione ovviamente un booklet tutto in francese anche se molto particolare è molto bello e devo dire vedete proprio un vero e proprio libro su questo splendido film ovviamente ad oggi con l'aiuto di un cellulare lo possiamo volendo tradurre molto facilmente facendo delle semplici foto ma diciamo non è il massimo sarebbe stato il massimo se fosse stato in italiano ma l'edizione francese quindi ci accontentiamo guardate comunque ci sono anche delle splendide foto c'è quindi il maestro appunto leone con james wood robert de niro il maestro leone ancora ancora noodle perché che il personaggio di robert de niro e niente max appunto che quello di james wood poi abbiamo twist the world che carol personaggio anch'essi iconico del film debora da grande che l'isabetta mcgovern ragazzi è un gran film qui ci sono anche un po le filmografie le biografie dei vari artisti che hanno partecipato a questo vero e proprio colossal poi andiamo a vedere cosa ci riserva appunto questa edizione abbiamo semplicemente uno splendido digipec come potete vedere con la stessa copertina della della metal box e qui abbiamo i tre dischi perché sì abbiamo il film in blu ray e il film in doppio dvd non sono le uniche due edizioni che ho del film o anche il dvd doppio dvd italiano è uscito all'inizio ovviamente nel blu ray c'è l'audio italiano guardate che bello comunque questo questo digipec è davvero bello e niente ragazzi penso che l'edizione sia degna ovviamente io aspetto sempre sì ovviamente mi aspetterei anche un 4k fatto come si deve però in mancanza di mi piacerebbe anche avere un'edizione deluxe di questo film perché sì queste due che ho che vi sto facendo vedere sono assolutamente molto belle però secondo me è un film che merita qualcosa in più anche a livello collezionistico magari come gadget come inserti come artwork va bene questa qui era la prima e poi andiamo a vedere un'altra del quale vado veramente molto fiero questa l'ha presi all'epoca ora non ricordo nemmeno se è nuova sicura non mi ricordo se è da privato se è su uno store sinceramente non mi ricordo mi ricordo semplicemente che l'ha presi perché io stavo dietro a un'edizione steelbook dorata molto bella dello stesso film che era uscita sia in uk che in giappone e io non ho mai non sono mai riuscito a comprarla a volte perché chiedevano uno sproposito e io sì come ben sapete spendo per i film però su alcune edizioni poi mi do dei limiti sul quale non vado avanti va beh questa è una mia diciamo una mia cosa questo è comunque molto bello guardate edizione warner sempre francese è strano che nessuno abbia mai fatto un'edizione del genere in italiano artwork molto bello fatto vedere la costina e poi andiamo a vedere alla fine non è niente di che sì è un cartoncino rigido come potete vedere ha questo amarai all'interno con il film solo in blu ray come potete notare con la stessa intanto questo è lo stesso artwork dell'edizione italiana in blu ray qui c'è la versione estesa e ragazzi vi assicuro che le scene che hanno inserito nella versione estesa sono di assoluto valore per dare un senso alla storia quindi chi non ha ancora visto la versione estesa gli consiglio di andarla subito a visionare e poi qui abbiamo questo splendido booklet anche essi forse anche più bello di quello dell'altra versione andiamo a spostare un po non voglio fare danni mamma mia maledetto spazio e niente qui vediamo il maestro leone una lettera di martis corsese al maestro leone ovviamente ragazzi anche qui è tutto in francese ma anche qui ci sono foto assolutamente bellissime di questo film questa è una delle scene che io adoro il balletto vabbè ragazzi ma vi dico ah a proposito una delle scene che io adoro e che forse in questi booklet non c'è a quanto pare no quindi confermo che non c'è mi fermo un secondo poi andiamo un po' avanti vi vorrei soffermare sui bambini allora una delle scene che adoro è quando se non erro questo bambino qui che non ricordo il nome nel film va da una ragazzina che si prostituisce o almeno dovrebbe andare questa ragazzina diciamo vista l'epoca e la fame quindi non condanniamo assolutamente diciamo ciò che fa vedere il film perché poi alla fine era purtroppo realtà si prostituiva per un dolcetto ora non ricordo il nome con panna e diciamo è la ciliegina sopra e questo dolcetto ovviamente essendo comunque una comunità povera gli italiani o gli irlandesi comunque in america essendo una comunità povere non è che è come oggi diciamo che un dolcetto possiamo permettercelo tutti o quasi tutti si prostituisce per questo dolcetto appunto quindi il film dà il senso di quanto sia agognato anche solo un dolce e questo bambino che è disposto ad avere appunto un incontro con questa ragazzina anch'essi molto giovane che tra l'altro vediamo qui vediamo in questa foto qui sì che sta avendo un rapporto con noodle da piccolo e niente praticamente lui va a comprare questo dolcetto e nel frattempo che aspetta la donsella diciamo che finisca magari le sue cose prima di incontrarlo lui piano piano scarta questo dolcino e comincia a leccare piano piano la panna e poi a mangiare il diciamo la frutta candita alla fine decide di mangiarsi il dolce e se ne va perché a me piace questa questa scena semplicemente perché fa a mio avviso capire che comunque per quanto si possa nascere in ambienti ostili e difficili alla fine si è bambini ovunque cioè quindi anche se lui ha una predisposizione a fare appunto cose non di buon gusto o comunque non legali alla fine è pur sempre un bambino e quindi decide di mangiarsi il dolce piuttosto che avere un rapporto sessuale o un incontro con la diciamo la gognata ragazzina che fa il mestiere più antico del mondo e niente questo era un mio piccolo diciamo una mia piccola parentesi poi qui vediamo le altre immagini che dite ragazzi è un film a mio avviso stratosferico ah questo è il famoso come dire funerale al proibizionismo e qui invece abbiamo un po' di copertine o locandine da parte da tutto il mondo e si sono tutte a loro modo molto belle ragazzi io adoro letteralmente questo film letteralmente questo film e niente questa era l'altra versione sempre francese andiamo a riporre il tutto prendiamo di nuovo anche l'altra e niente questa puntata della rubrica import volge al termine ovviamente mi raccomando sempre l'iscrizione al canale sempre anche diciamo il commento dite la vostra fatemi qualche domanda sono assolutamente aperto a tutto colgo l'occasione ancora per ringraziarvi perché mi seguite quindi non sarò mai abbastanza grato e niente ci vediamo presto su questo canale ciao a tutti